Ciao, se hai iniziato a collaborare con l'azienda di network marketing Greenway e vuoi conoscere il piano marketing, sappi che in questo video io non ti parlerò del piano marketing di Greenway. E lo sai perché? Perché in realtà non ti serve conoscerlo se vuoi iniziare a guadagnare bene con Greenway e addirittura ti dirò di più, conoscere il piano marketing in posto la tua crescita. Io ora so che questo può sembrare veramente controintuitivo, però guarda questo breve video e guardalo attentamente per capire il motivo di queste mie parole. Prima di tutto ti faccio una domanda perché tu vuoi conoscere il piano compensi di Greenway Global? Di certo non lo fai, diciamo, per cultura generale Tu vuoi conoscere il piano marketing perché ti interessa capire come farai i soldi, giusto? Il fatto però è che il piano marketing di per sé ti dice sì a quali condizioni tu verrai pagato, però non ti dice assolutamente nulla su come puoi generare queste commissioni. E se andiamo a vedere ci sono tantissimi networker che conoscono a malapena il piano marketing dell'azienda, ma hanno imparato anche solo le basi per generare clienti e collaboratori e quindi guadagnano, guadagnano bene. E poi ci sono quelli che hanno imparato anche a memoria il piano marketing, il piano marketing di Greenway o di qualsiasi altra azienda con cui collaborano, però non hanno mai visto un euro. E ora tu potresti dirmi che, non so, cioè non è professionale, che trovi assurdo lavorare e non sapere, no, come si viene pagati. Io invece trovo ancora più assurdo pensare che imparando il piano marketing di Enagic o di qualsiasi altra azienda tu possa poi magicamente guadagnare soldi da questo fatto. Io non ci sto dicendo che tu non devi mai imparare il piano marketing, però sono anche sicuro al 90% che tu che stai guardando adesso questo video sei in attività da meno di un anno, quindi possiamo dire che tu sei un networker neofita. E io so molto bene cosa passa per la mente del networker neofita, perché ci sono passato in prima persona nel 2010 e poi l'ho visto e rivisto centinaia di volte con i miei collaboratori, con i miei clienti networker che appunto aiuto. Mi ricordo io stesso che i primi giorni proprio da networker cercavo di conoscere alla perfezione questo benedetto piano marketing. Addirittura andavo già a spiegarlo io in giro, quindi pensando di poter iscrivere le persone solo perché avevo spiegato loro il piano marketing. Questo però è un errore, direi un gravissimo errore, perché a quei tempi dovevo concentrarmi subito su quelle cose che potevano portarmi dei risultati concreti. Quindi il mio consiglio è smettere di focalizzarti sulle cose che hanno diciamo un'importanza secondaria, soprattutto le prime settimane. Tu non puoi elaborare troppe informazioni, le prime settimane deve essere selettivo al massimo. Capisci come si fanno prima i clienti e i collaboratori. I soldi arriveranno come una conseguenza, ok, da queste tue competenze e non dalle tue conoscenze teoriche sul piano marketing. Ok, quindi una volta che ti arrivano le prime commissioni, va bene, hai imparato le basi, imparati anche il piano marketing. Bene, per te che sei arrivato fino alla fine di questo video ti dico subito che ho preparato un regalo, un videocorso formato da tre video in cui spiego quali sono i tre pilastri fondamentali sui quali dovresti basare il tuo business di network marketing se vuoi crescere in questa attività. Ti faccio proprio vedere degli esempi concreti, ti mostro come un mio cliente che era un perfetto neofita è riuscito a iscrivere nove persone durante i suoi primi due giorni lavorativi. lo ha fatto seguendo quattro semplici passi, non conosceva ancora il piano marketing e non aveva particolari competenze appunto nemmeno di marketing. Ha seguito una strategia che io chiamo marketing mix ed è riuscito a fare i suoi primi risultati. Quindi se vuoi cambiare completamente il corso del tuo business Greenway, se vuoi essere fiero di quello che stai facendo e camminare a testa alta, clicca sul link che trovi qui sotto nella descrizione di questo video e anche nei commenti. Ci vediamo dall'altra parte.